Il proposito di Inter, l'avversaria fa molta paura perché il prossimo avversario è la Catania di Maran che tanto bene sta facendo in questo campionato. Ha parlato a Ndukar così. È sempre bello affrontare l'Inter, è sempre bello giocare contro i giocatori della loro classe, della loro importanza. Speriamo sia una bella partita ma soprattutto di poter vincere. Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, per arrivare a essere in questa situazione classifica ma credo che nessuno si aspettava un campionato del genere anche se pensavamo di fare bene ma non così. C'è stata una crescita graduale del Catania. Da quando sono arrivato io ci sono stati tutti gli anni e abbiamo migliorato un po'. Quindi c'è stata una crescita che è stata importante ma sempre graduale. Questo impianto sportivo è un clarissimo segno di che il Catania è pronto per lottare e per giocarsi tra guardi importanti. I siti di John Kerry, sappiamo che non si è ancora visto ad Appiano Gentile ma sarà molto molto difficile che possa diventare giocatore di stramaccioni. Due settimane di prova, questo gli hanno dato il presidente e l'allenatore. Seguiamo gli allenamenti dell'Inter, seguiamo anche le condizioni di Nagatomo. Non sta benissimo, ci sarà un problema difesa visto Samuel squalificato. Contro il Catania che va benissimo, il Catania di Maran sogna l'Europa, lo fa anche con tutti i suoi argentini. A cominciare da Ndukar. È sempre bello affrontare l'Inter, è sempre bello giocare contro i giocatori della loro classe, della loro importanza. Speriamo sia una bella partita ma soprattutto di poter vincere. Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, per arrivare a essere in questa situazione classifica ma credo che nessuno si aspettava un campionato del genere anche se pensavamo di fare bene ma non così. C'è stata una crescita graduale del Catania, da quando sono arrivato io ci sono stati tutti gli anni e abbiamo migliorato un po'. Quindi c'è stata una crescita che è stata importante ma sempre graduale. Questo impianto sportivo è un clarissimo segno di che il Catania è pronto per lottare e per giocarsi tra guardi importanti. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso di box 1 del Catania. È sempre bello affrontare l'Inter, è sempre bello giocare contro i giocatori della loro classe, della loro importanza. Speriamo sia una bella partita ma soprattutto di poter vincere. Abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, per arrivare a essere in questa situazione classifica ma credo che nessuno si aspettava un campionato del genere anche se pensavamo di fare bene ma non così. C'è stata una crescita graduale del Catania, da quando sono arrivato io ci sono stati tutti gli anni e abbiamo migliorato un po'. Quindi c'è stata una crescita che è stata importante ma sempre graduale. Questo impianto sportivo è un clarissimo segno di che il Catania è pronto per lottare e per giocarsi tra guardi importanti. Tra poco...